Prova così Vedi che è carinissima almeno metterla qui Aspetta Che vuoi fare? Ci puoi scrivere qualcosa? Non scrivere cose brutte Ecco lo sapevo Lo sapevo sei una persona terribile E ragazzi come va? Io sono Ferenichi E io sono Steph e che se giochiamo a Roblo E siamo finalmente tornati su Team Park Nello scorso episodio abbiamo dedicato tutta la puntata alla costruzione di una fantastica montagna rossa Che guardatela quanto è bella, lì gigante, stupenda, non la stai facendo vedere Mentre invece per questo episodio a grande richiesta Perché sì, i nostri consulini ce l'hanno chiesto tantissimo nei commenti Faremo una zona del parco a tema horror Ti piace questa cosa? Mi piace tantissimo Io sono felicissima È un'idea fantastica perché ogni parco giochi ha quella zona Mi piace più un sacco a me questo tipo di cose Hanno la casa dei mostri, tutte queste cose E dovremmo fare tutto noi Dovremmo inventarci qualcosa di davvero spaventoso Sì E in effetti, proprio per questa occasione Abbiamo sbloccato la tomba Io non voglio dire come l'abbiamo fatto Non abbiamo fatto niente di male, ve lo assicuriamo Racconta ciò che ha fatto il signor Maialino No, non posso Ci tengo a precisare che quando è stata fatta questa cosa io non c'ero Perché altrimenti l'avrei bloccato Jeff non è felice In realtà l'ho fatto col tuo personaggio Quindi l'ha fatto Capitan Jeff, non l'ho fatto io Mi dispiace Stava dormendo Allora ci sono le prove nella registrazione che sei tu Nessuno può dire che sono stata io a fare questa cosa Ok, sei stato tu Mi dispiace ma sei stato tu E comunque se proprio vogliamo dare la colpa a qualcuno È colpa del creatore del gioco Perché la tomba ovviamente non può mancare nella parte horror E dovevamo fare quell'achievement Esatto, siamo stati obbligati a far morire dieci clienti In contemporanea con una montagna russa È stato terribile Vabbè dai Secondo me si sono divertiti Anche secondo me Vero? È stata molto estrema Molto esplosiva Basta Parlando di cose un po' più carine Ok Guarda questi bei fiori Belli Ho iniziato a giocare con il cambio di colori E secondo me sono troppo bellini Mi piacciono un sacco Sì, perché comunque Si possono cambiare colori Praticamente a qualsiasi cosa che tu vedi E noi in effetti Non l'abbiamo sfruttata molto Esatto Questa cosa Anche i cristalli Lo sai che li puoi fare di tutti i colori Magari nella zona horror Possiamo farli Rosso sangue È tipo il rosso sangue E anche la fontana Ho visto in un parco di un'altra persona Facciamo verde slime proprio Ho capito? No, no Io addirittura nel parco Perché vado a frugare i parchi Delle persone random Ho visto questo ragazzo Che ha fatto la fontana rossa Quindi sembrava che fosse una fontana di sangue Era terribile Faceva troppo paura Geniale E si potrebbe fare O magari anche verde Perché in effetti i mostri Ricordano molto lo slime Allora, iniziamo Mi stai facendo mia voglia di costruire Però se mi ferma Anche ho messo venendo un sacco di voglia Sono davvero felicissima per la parte horror Perché anche se sono una fifona Adoro le cose a tema horror Quindi ne vedo l'ora di iniziare Dove la costruiamo? Allora, prima di tutto Abbiamo 81.000 Che non è che sia proprio tantissimo Ok, allora Quindi sai che facciamo? Decidiamo bene cosa costruire In modo tale da non sprecare soldi Quindi Concentrati Idee chiare E poi iniziamo Ok Secondo me la cosa migliore Usiamo questa parte tutta esterna Quest'altro lato Sì, mi piace Possiamo fare un collegamento particolare Perché questi cami costano 5.000 e 5.000 Così ci rimangono 70.000 Per poter costruire Mi piace anche che la parte sia tutta qui Un po' isolata Che non vada a intaccare l'altra zona del parco Appunto come deve essere una parte horror Esatto Capito Sì, mi piace Mi piace Mi piace Però guarda Io inizio a fare Però aspetta Dimmi Perché praticamente se vado dritta di così C'è la fossa Vai un po' alla destra E passiamo perfettamente sopra Esatto Altrimenti facciamo un ponticello che passa sopra Uh, hai ragione Aspetta, aspetta, aspetta Dammi questo onore Dammi questo onore Vai, vai, vai Sì, sono felicissima Sono felicissima Ho notato Io nel mentre ricostruisco i due negozi Allora uno era hot drinks E lo possiamo mettere qua teoricamente Quindi allora Aspetta, aspetta Allora, allora c'è un po' un problema Dimmi Perché io vorrei fare il ponte Però dopo che faccio la salita Poi come faccio a mettere le cose dritte? Cioè fluttuano? Non lo so Prova Aiutami Prova Non lo so Tu hai detto che volevi farlo Tutto tuo Non è più il mio problema Mi stai abbandonando Esatto Mi piace molto Lo so Una salitina Allora, ho fatto anche tutto il terreno così a scendere Perché non mi piaceva che finisse così dritto Quindi diciamo che ho sistemato tutto Qui, qui Mi scusi È un errore È un errore che non si può più commettere Guardi, guardi che carino così sembra Perfetto Anche una caverna quando entra dentro la montagna russa Sembra carinissima, vero? E se adesso andiamo direttamente da questa discesina verso sotto E continuiamo a discendere A scendere? A discendere A discendere, le piace? Sì, sì, sì O magari aspetta, aspetta, aspetti un secondo Facciamo almeno un blocco secondo me Per non andare subito sotto Adesso iniziamo Quindi inizi a scavare Si muova Ok Ok Non so quanto dobbiamo andare in profondità Ma Allora Lei vada Ok Poi troveremo qualcosa da fare A prestimi quando arrivi al... Finito Finito, finito Ce l'ho fatta Siamo a terra? Perfetti? Sì, sì, sì Ok Adesso dobbiamo decidere Praticamente ti dico la mia idea Ok, vada, vada, vada Aspetta, ho avuto problemi Perché ogni volta ho dei problemi Ok, ok, ok Ti dicevo La mia idea è quella di creare Vedi, allora, loro arrivano Ok Praticamente qua sotto Ci sarà un ristorante A tema horror Quindi tutto con luci basse basse Con i cristalli Tutto così Tutto buio E cattivo E praticamente da questo ristorante Ci sarà una stradina Che porta ad una giostra Fatta tutta sottoterra Che va tutta sottoterra Con i binari Capisci? Il trenino horror Esatto E alla sinistra e alla destra Ci saranno diverse decorazioni Sì, mi piace Che possiamo usare Sia la macchinetta Perché c'è la vintage cars Che abbiamo tolto Poi dal nostro parco Esatto Quindi si potrebbe rimettere Il trenino horror Guardate come sta uscendo Non è bellissimo È tutta la parte che ho fatto io Faccio vedere meglio Allora Voglio presentarla Ok Sono molto fiera Ho fatto le pareti rosse Povimento nero Il percorso ovviamente Altrimenti non ci arrivano Ho messo tutte le cose Delle bevande nere Giustamente perché Devono avere Un tema molto cupo E ora sto facendo i tavolini Ok Ok Mi piace tantissimo Vuoi far vedere il tuo percorso? Non c'è molto da vedere ragazzi Ok Stai avendo problemi Perché praticamente vedete qua Ho fatto un buco nel terreno Che passa tutto sottoterra E qui partirà la giostra Il problema è che io devo costruire così Vedete qualcosa? No Nemmeno io L'unico modo che ho per vedere È entrare su terreno Che praticamente mi permette di vedere Un pochettino tutto illuminato Ok E come potete vedere Questo è quello che ho fatto Quindi qua Si va dritti per un pochettino E c'è una curva verso destra Adesso voglio fare Una bella discesa Che va ancora più sottoterra Poi risale Farà tutta una curva E tornerà all'entrata In tutto questo A sinistra e destra In certi punti Cerco di allargare Per mettere un pochettino Di Diciamo Arredamento Chiamiamolo così Ok Tipo cosa ne so Io posso fare Che stai combinando? Ci ho provato Ma non mi è uscito bene Tipo ta Ta Ok Ma ho tolto Ah no Ok Ok mi sono ricordato Che a sinistra Siamo arrivati alla fine Della mappa Ok Quindi praticamente Ad esempio Vedete qua ho bucato Alla destra Teoricamente Io potrei prendere E piazzare Ok Che combini? Ok Siamo letteralmente Qui da un'ora Ma abbiamo fatto una figata Allora Prima di tutto Facciamo vedere la tua parte E poi la mia Allora ci vogliono poi Sicuramente dei cestini Ricordatelo Perché i clienti Hanno fatto un disastro Non ci interessa Guarda Voglio fare tutto Tranne che quello In questo momento Si scende Guardate come tetro Schifosi che sono Guardate che bello Ho messo le luci rosse Perché purtroppo Allora se non metti luci Io lo volevo lasciare Un po' più soffuso Ma poi non si vede Assolutamente nulla Quindi ho pensato Di mettere delle luci Non proprio rosse Sono un po' rosa Insomma Ok Per fare un po' Un ambiente soffuso Un po' cupo Vedi anche tutti i casotti Tutti neri Tutto scuro Il muro rosso Bellissimo Ok mi piace Mi piace moltissimo E sono molto soddisfatta Di questa parte Ti piace? Moltissimo Sono contenta Adesso mi segui Ok Arrivando qua Si mangia Ci si siede al tavolino E tutto Dopodichè c'è questo passaggio Che porta qui Che bello Ok Praticamente Adesso Aspetta La mettiamo in testing Che sennò questa Non partirà mai Fino a quando non arrivano Dei clienti Credo che qua Non arriveranno mai Dei clienti No no Arrivano Arrivano Non ti preoccupare Sono già seduta Prontissima a iniziare la corsa Ok Oh mio dio Lo sai che mi piacciono anche un sacco Le pareti in erba Non le cambierei Perché mi piace Proprio questa cosa Tutta in erba È molto più Capito Grottesca Guarda che bello Ho fatto praticamente Per tutto il percorso Un blocco sì Un blocco no I cristalli E si fa tutto questo passaggio Sotterraneo Sto di voluto andare anche Verso il basso Ma quanto pareti Mi vetti alla profondità massima Ah ok Che permette il gioco Quindi mi sono dovuta arrangere così Comunque lo sai che dicevo I cristalli di un altro colore Ma mi piace un sacco L'atmosfera Che fanno questi blu Mi piace questa scelta Ho provato a metterli rossi Ma non si vedeva più nulla Quindi praticamente Se sei stata tu al buio Che sai di camminare Ma neanche ti vedi No 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 Ma ti dirò Guarda la luce che fanno Mi piace proprio come atmosfera Perché poi comunque Guarda è tutto super buio Mi piace davvero un sacco Questo percorso È bellissimo Ovviamente Non è totalmente tetro ragazzi Però ci dovevamo arrangiare Con quello che abbiamo Perché No anzi ti dirò Secondo me abbiamo fatto un buon lavoro Non ci sono decorazioni horror Perché ok Non ci sono fantasmi Finito Oh l'ho visto Ti dicevo Non ci sono fantasmi O cos'è così Ma secondo me è molto tetro Comunque Voglio fare un attimo in una cosa Aspetta dammi questo onore Voglio mettere la tomba La tomba che abbiamo sbloccato Che ancora non abbiamo messo Da nessuna parte E dove la vuoi mettere? Ah io non so È vero Non ho fatto l'achievement Dove la vuole? Dove la vuole? Allora io direi di metterla All'ingresso Magari Ah no però qui c'è il passaggio Tipo qua in questo lato Ci può stare? Può stare su un percorso Non ho più polli di idea Come rimane? No E allora ascolta Ascoltami Fuori prima di entrare No ma anche qua Tipo qua Qua davanti Vedi che qua è vuoto Non c'è neanche un tavolino Secondo me ci sta benissimo Ma io credo che la possiamo mettere Solo sulla terra E allora aspetta Vada Aspetta Mi hai fatto la finta Scusi vada Prova così Ok Vedi che è carinissima Almeno metterla qui Aspetta Ok Che vuoi fare? Ci puoi scrivere qualcosa? Non scrivere cose brutte Ecco lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Sei una persona terribile Guarda comunque i clienti Che si stanno sedendo Hai aperto la giostra? E allora sai che dobbiamo fare Perché in effetti Non siamo molto intelligenti La consolina però Sta ridendo Dobbiamo fargli il percorso Perché altrimenti Non ci entrano questi Sei un disgraziato Sei un disgraziato Guarda che adesso Te la distruggo No Te la distruggo Te la distruggo Allora Ne volevi mettere Piuttosto anche una fuori? Sì Assolutamente Per far capire l'ingresso Mettiamo anche Il segnale Che dice Zona horror Ci penso io a quello Non ti preoccupare Allora Direi di metterlo qua Secondo me È un buon punto Allora Rip Ma ne mettiamo due Guarda come risulta figo Sì 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 Perché fa intuire E qua secondo me È perfetto il segnale E come lo chiamiamo? Zona horror? Eh Zona del terrore Zona Zona Del Terrore E guarda Oh sì Vedi Così almeno qua Siamo sicurissimi Che i clienti capiscono Che c'è la zona del terrore E sono molto soddisfatta Dai Sì non è male Purtroppo ci sono poche decorazioni Speravo in qualcosa Di un po' più Capito Macabro Cose così Ma va benissimo In ogni caso ragazzi Se avete qualche ideuccia Da consigliarci Per migliorare ancora questa zona Perché mi soddisfa Ma non conto quella Del porcaquattico Cioè secondo me Possiamo fare ancora un po' meglio Quindi nel caso Fateci sapere Se avete qualche ideuccia Da aggiungere Per migliorare ancora di più Come ad esempio questi Perché tu non ci hai pensato Scusami Che cosa Guarda E infatti li stavo mettendo adesso Mettine tipo anche uno qua Che anche se sono pirateschi Però dai Ci possiamo arrangiare No no E far finta Guarda così Che siano un po' Oh mio dio È troppo carino È troppo carino Vedi alla fine ci stanno Ci possiamo arrangiare un po' Con quello che Che abbiamo E non è per niente male Mi piace davvero tantissimo Ci fermiamo così Per questo episodio Prossimo episodio Non lo so Forse proviamo una zona medievale Sì Sì Vero Bello Se vi piace fateci sapere O zona medievale O un'altra montagna russa Quindi decidete voi nei commenti E appunto fateci sapere Se avete qualche idea Da aggiungere Per questa zona del terrore Fateci sapere ovviamente Se vi piace E ci fermiamo così Per questo video Beh ragazzi Vi riuscire così Se vi è giusto Ascettaci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti